E' sicuro che sarà una partita importante per noi e la stiamo preparando bene, sicuro che venerdì arriviamo pronti e daremo tutto per la vittoria. Sarà bella e emozionante soprattutto perché inizierete in casa in uno stadio gremito con tante persone a tifarvi. Sì, sicuro che sarà bellissimo dopo 18 anni che Toro non era in finale di Coppa Italia e già lo so che vengono tanti tifosi e gli dico io che daremo tutto per loro, per questa maglia, per la vittoria e cercheremo di vincere. Grazie a tutti.